Arpat ha approvato il bilancio 2020 dell'Agenzia di protezione ambientale. Il Consiglio approva anche una risoluzione della penta stellata Irene Galletti. Toscana in spot, la premiazione del concorso indetto dal Comitato regionale per le comunicazioni. La cerimonia si è tenuta a Palazzo del Pegaso. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia regionale di protezione ambientale, l'Arpat, con 21 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti. È stato respinto un ordine del giorno presentato da Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia, approvata invece la proposta di risoluzione di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Sentiamo le interviste. Il bilancio di Arpat denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. Paradossale perché l'azienda ha chiuso un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla regione, in virtù della vittoria che l'Agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'Imo. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'Agenzia per svolgere a pieno il proprio compito, perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del Cheu. Abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinate dalla presenza del Cheu e conseguenti bonifiche. Il PD ha ritenuto di non votarlo. È un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la regione sta attraversando, non solo per le vicende del Cheu e quindi ci aspettiamo che la regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. ARPAT è un ente fondamentale per la Toscana perché deve effettuare i controlli e tutte le verifiche necessarie per la salute dei cittadini toscani. Oggi riscontriamo dal bilancio di ARPAT un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare. Non possiamo accettare che ARPAT e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi abbiamo espresso un voto contrario anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che ARPAT purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore e in diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino costiero. Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come ARPAT oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta CEU, non può permettersi. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di ARPAT che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani e questo è un bene che la Regione Toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Il bilancio di ARPAT che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale è stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della Regione, un ente che nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente e delle norme il suo essere per noi un punto di riferimento. Abbiamo anche in Commissione ascoltato il Presidente e il Direttore Tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT alla luce anche delle tante problematiche che in regione toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque c'è imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci fa, ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. ARPAT è un elemento essenziale dell'attività della nostra Regione e finalmente è stato approvato una nostra proposta di risoluzione, un nostro atto che va in favore dell'aumento delle assunzioni e soprattutto dell'importanza di ARPAT all'interno del sistema Regione Toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente dopo averlo più volte presentato il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso sia stata approvata dalla maggioranza che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente, che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT, la mancanza appunto di risorse che si avevano non le ha messe in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33% e quindi questo fa capire che l'investire in ARPAT è fondamentale e che la regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità una mozione di Italia Viva che riprende le decisioni del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole elementari con insegnanti laureati in scienze motorie, un indirizzo quindi che è stato adottato anche dalla regione toscana. Sentiamo il consigliere che ha presentato la mozione, Stefano Scaramelli di Italia Viva. Il Consiglio regionale approva un atto importante che dà mandato di fatto alla regione toscana di sostenere con proprie risorse tutte quelle iniziative finalizzate a promuovere nelle scuole primarie lo sport rispetto a insegnanti specifici, rispetto all'implementazione di quello che sta avvenendo in queste ore a Roma con una manovra del governo che dovrà prevedere la possibilità di avere insegnanti specifici nelle scuole elementari per le attività motorie. Questo deve avvenire in tutte le classi e quindi il nostro monito e l'impegno assunto dal Consiglio per cercare di dare un sostegno con proprie risorse per integrare quanto avviene a livello nazionale, per fare in modo che in tutte le classi ci sia un insegnamento dell'attività motoria e ci siano anche adeguamenti infrastrutturali rispetto alle palestre di tutte le scuole primarie della Toscana. Voltiamo ancora a pagina. Sono stati premiati a Palazzo del Pegaso i vincitori del concorso per videomaker Toscana in spot 2021, ritorno al futuro, indetto dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. La cerimonia è stata presentata dal giornalista Alberto Severi. A vincere il primo premio è stato Matteo Manganelli con il video dal titolo Toscana 2050, nostro futuro. Secondo la giuria, questo video si è distinto per la semplicità e la schiettezza del messaggio. Vediamo lo spot. E quindi? Cosa vorrebbe dire che adesso tocca a noi? E se non ci fosse più la neve sul pisalino? E se nel nostro mare ci fosse più plastica che pesce? E se non ci fosse un futuro per le spighe di grano? E se tutto questo potesse essere evitato? E adesso sentiamo le interviste ad iniziare proprio dal vincitore Matteo Manganelli. Quando ho sentito della notizia che c'era questo concorso non sapevo come poter realizzare lo spot e ho pensato e grazie anche all'aiuto dei miei familiari sono riuscito ad arrivare a questa idea di questo spot e di anche questo bambino che sembra appunto che vada nel futuro e poi però alla fine si scopre che in realtà era già nel presente. Ecco ma a proposito di futuro per le spighe, ma quant'è che aggeggi con le cose del videomaker che ha la tua età? Cioè hai cominciato prestissimo. Sì, allora ho iniziato diciamo due anni fa a fare i primi video in casa e ho deciso un po' di buttarmi ora per cercare di provare a fare esperienze comunque che possono essere molto belle per la vita. Ringrazio Corecom perché davvero è andato nella direzione che come Consiglio regionale volevamo quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050. E' il primo passo, davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande come la domanda della bimba che è l'attrice principale del video vincitore che ci mette tanti se, tante domande e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022 perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta una Toscana che guardi con speranza al futuro, alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa, vedere la Toscana nel 2050. Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti. Insomma, un prodotto molto bello, lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom, Chetica Fissi, e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. A loro, principalmente, ma anche ad altri tecnici della regione, hanno seguito i lavori giudicati e oggi, con grande soddisfazione, siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati e naturalmente poi saranno disponibili e a disposizione di tutti. Con noi oggi ci sono anche i primi tre vincitori che, ovviamente, saranno presentati durante questa conferenza stampa. Sono prodotti che, per quanto almeno riguarda la competenza da noi acquisita, hanno tutti un grosso merito. Non c'è stata un'unanimità in partenza. La giuria ha discusso molto, segno non tanto di una mancata convinzione su chi doveva arrivare primo, secondo o terzo, quanto della difficoltà di scegliere veramente nella qualità dei prodotti presentati e anche un po', naturalmente, nel punto di vista spesso soggettivo che questo tipo di valutazioni hanno. C'è un fatto oggettivo di qualità che non può essere discusso, ma c'è anche un elemento di soggettività, di preferenza, di cui, tra l'altro, mi piacerebbe fare un piccolo coming out fra poco per spiegare, per esempio, che io nella lotta tra primo e secondo ero effettivamente, personalmente, per quel che vale, molto indeciso. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.